buongiorno coccodrilli ci siamo ci siamo una nuova salame oh corre corre che è successo corre è piena di figa no mamma mia cocca aiutatevi guardate di qui no vabbè è piena sta pieno ma come la vedi come la vedi interveniamo qui da bastia umbra come la vedi come la vedi mamma mia cocca tutta pelosa ma quanto quanto pelosa tanto 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 andiamo a pelo certo perché sta pieno perché sta pieno ma sta pieno andiamo a pelo mamma mia impressionante è una cosa che non c'è se credi comunque infatti un'appesionata dai va bene così o no fallo ma come tocca a farlo tu devi farlo un po meglio perché così non siamo convincenti no oh e tommeno se credo non credo se no ma come mi pare io la vedo così e tu devi fare no così ma no non è passata questa com'è tu c'hai i capelli bianchi quindi o l'amor di dio questa guardo no 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 tu devi fare sei un buon gustaglio aspetta no fammi fare quasi per bene lo fa così capito con la bocca che va fa il movimento sul sultorio vai guardate guarda di qui vabbè vabbè sta pieno pieno è pieno o non va bene però oh te sciacqua di coglione va bene o non va bene aria no no dove andà fa fanculo oh la giornata inizia con la carica sta stamattina ho fatto mille cose tra l'altro guardate ragazzi c'è una disposizione molto interessante perché faremo le torte di pasqua è o no oh no oh no le fanno le torchino di pasquina col cardino si si ma che te levo di coglione ah va bene affare fatto difficile che me levo di coglioni oggi perché starò sempre con te fermate che sei in testa di cazzo mi fai buttanoio porca ma sentirei i cicchi ma che stai a fare che sei lo stronzo ma perchè ma come perchè ma l'olio costi i soldi mangiare di qui oh sei sempre a mangiare fausti ma sei scemo oh questo nel mangiare ti fa bene beh ma tu levati non lo mangiare vabbè ma chi sei karate kid a brusli a bruslino faustino bruslino guarda come scalcia taccheggia e non ancheggia oh yeah vieni più ma dove dai cazzo guarda come è ta io mi aiuta arrivo numero sette sono io il numero sette fermate fermate ma perchè guardatevi scemo è il gioco no vedaci ne accassate no si si no si no! Vaffanculo! pure! ma tutte queste parolacce però a una certa età io devo vedere i famosi 50 grammi di pasta eh la bella guarda quant'è secondo me 52 no no 50 precisi a pranzo ti cambiano le poste ti mettono vicino al nonno io sono ancora più contento così sto vicino se c'è bisogno di qualcosa se impunta gli fa così se si impunta un pochino gli fa ta 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 capito? tranquillo io ti fa ta 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 se ti si impunta tu stai tranquillo non ti preoccupare hai capito no? o no? hai capito? guarda come gli viene da ridere sotto perché gli faccio ridere anche loro non è b****nino quando no Vedi come ride, a lui gli piace di ride Che arzughe, che arzughe, che arzughe Nooo Eh davvero, lasciami via o no, però basta queste parole Basta Che bello, eh canta, che canta, che canta Ma che cazzo non so io che canta Se ci fosse perso quello che è successo ieri Fate swipe up e andate a vedere su youtube Ragazzi, forse forse stasera metterò anche il video della torta di Pasqua Noi potete iniziare a girare Adesso appena c'è la nonna Appena c'è tutto quello che ci occorre Iniziamo a girare questo fantastico video Così anche voi potrete onorare la vostra Pasqua Con le nostre torte al formaggio Anzi, poi fatemi vedere come vi vengono Perché sono super curioso Quindi fate swipe intanto E andate a iscrivervi al mio canale youtube Vi aspettiamo Stronzo Testa di cazzo Tocca di nasù 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 Per tutti quelli Che acquisteranno Che hanno già acquistato da lunedì Fino a venerdì Uno di voi potrà vincere Una torta di Pasqua Eccola qua Fatta Quindi fate swipe Acquistate un prodotto Nel nostro store E venerdì vi dirò Chi ha vinto una torta di Pasqua Fate swipe Fate swipe che la nonna ve la prepara Ecco qua Come? Che c'è salito? Perché? C'è salita una mezza scrofa stavolta Perché mezza? Perché mette un dento più su Ah devi andare un po' più su? E beh Ma che stai a mangiare? Ho preso un bistro Il Papa Saprà lui Ha diminuito gli stipendi Eh Eh Ma loro non sono contenti Perché? E perché vogliono un bel buon oro Che ho la famiglia da mantenere Hai capito? Quanto voglio? Io mi taglieri la testa da tutti Eh In un 5.000 euro al mese Ma che cazzo c'è da fare con questi soldi? Che c'è fanno? Chi fa queste passeggiate? Ah io quando fossi Sti ciri cusceきますi Di dei nascenti Sì? Fa queste passeggiate Da gusto? Ma da gusto sì Cammino in normale Guardo, vedo E mi piace non riconosci le strade ma vabbè ma le strade le riconosco ma queste io le strade compatte nuove e le riconosco che in Cerno la figa la riconosci? eh? la figa la riconosci? e ci credo quella è sempre uguale com'è? sempre uguale come? è buono dai si va a fare i giri cammina facci la o no? facci dai i cubi fermate Dio no le bestemmie no eh ma falle via fermate stronzo testa di cazzo nucleare apri lo spartaglio lo butto eh no oh ed ogni piano no bello di Roma facci la benedizione Filipe te sta benedì eh? oh oh la pressione come fermate Dio no ma fermate testa di cazzo ma sei contento che sei andato a trovare anche il tuo amico? eh sì quanto? eh un bel po' o no quanto? molto fammi via il giacchetto testa di cazzo oh questo è il ringraziamento ricordatevi sempre eh eccolo ma mica mi frega niente a te ah oggi non ti frega niente? no no mi frega niente oggi niente? ti basta che ho una roba dalla parte mia dove di qui? dopo dopo che ci sono noi altri mi frega niente se tu sei stupido se tu se tu sei stupido porca eh 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 dici basta che c'è la roba dalla parte tua se ce ne metto più eh guarda gli viene da ridere aia chiama ti scappano i serpenti sotto vedi? vedi? non me devi toccà guarda gli viene da ridere a morire guarda che ti dò un calcio di coglione ammette le fanno urlare e urla come in cosa? ammette ti vado a fare il piano non vedi? ammette se questo è il modo eh ma perchè ti crea un po' le confusione perchè dopo almeno no sei sempre attivo bello attivo le vedi di coglione da retta da retta gli hamburgerini omm no fammi i hamburgerini fammi i hamburgerini fammi fare i hamburgerini io devo fare i hamburgerini tu la fai una sega che tanto scoparne scopri ma via sempre queste parole non li fai gli hamburgerini tu non li fai gli hamburgerini tu non li fai gli hamburgerini ma che cosa non è pieno no tutti con me me la prendete sei sempre a masticare perché mi vuole cazzo mio non mi pare no mi pare perché non parlo con me io vedo sempre che la tua bocca fa così ho capito ma non va bene no la città è la stessa categoria qui era tutta la città guarda l'ho visto un po' disidratato ma perché no perché no un goccino smettala il piatto no almeno un goccino d'acqua mi fai un cazzo io lì è l'acqua tu sta zitta ma io lucia sete è due arrabbiata ma non è buona oh ti sei mangiato un bistecco ti sei mangiato ti sei mangiato ti sei mangiato un cazzo ti mangiare il cazzo ah quanti grammi quanti grammi scusa 150 50 grammi di pasta 150 due ore in poi sarà oh no oh no nonno eh oh no nonno oh no nonno io te scappo qua fuori no le minacce no eh ma dormimo oh già dormimo va sul lettino da retto o no ora cominci a romper il cazzo eh ma va sul letto ma va fuori ah io ti dico va sul letto nemmeno le 10 e già mi prende un sonno e quindi io vi saluto tanto ci vediamo domani e ah sarà pronto anche il video tutorial la ricetta per la torta di pasta Umbra quindi su youtube sul mio canale continuate ad iscrivervi e e niente domani nuove avventure nuove cose nuovi sketch eh l'importante è essere divertirsi ragazzi quindi se lo facciamo insieme sono ancora più contento io ce la metto sempre tutta ricordatevelo perché non è facile dice questo si sveglia fa le storie no non è così eh è un po' più ma magari poi lo vedrete nel tempo lo vedremo insieme nel tempo buonanotte a tutti adesso le vostre storie che sono super importanti vai che grandi ragazzo vedo un sacco di storie con la torta al testo vedo che queste ricette vi piacciono sono super contento e adesso ne faremo anche di più pensavo due al mese così almeno è un po' più carino per mangiare un po' insieme quindi però bello ho visto tante storie sono proprio contento grazie mille raga e continuate a seguirci grazie 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 numeri 1